e benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa e vangelo buongiorno a chi si connette in diretta mentre che devo dirvi insomma che devo dirvi devo darvi le prime notizie del mattino che dicono che lo spread esplode stamattina lo spread parte dritto sopra quota 300 è probabile sarà una giornata molto difficile sui mercati io ve l'ho detto sacchi di sabbia alle finestre perché sta arrivando davvero l'onda pericolosa vi ringrazio intanto i molti che sono già connessi don massimo lapponi meri rossi filippo dentini stefano sigali stefania parma alessandra bertozzi dicevo la notizia proprio della mattinata e apertura sopra quota 300 ieri sapete che contro la manovra del governo si è schierata anche la banca d'italia anche l'ufficio studi della camera dei deputati hanno detto tutti guardate con questa manovra si va a sbattere persino il ministro savona ha detto se lo spread dovesse raggiungere quota 400 dovremmo rivedere la manovra stamattina ci si sveglia con alle 9 del mattino lo spread sopra quota 300 la risposta di di maio sulle osservazioni della banca d'italia rese in ambito istituzionale perché ieri il vice direttore della banca d'italia vice direttore generale ha parlato alla camera in audizione davanti alla commissione bilancio e ha detto guardate così è andata a sbattere e la risposta del vice premier luigi di maio è stato la banca d'italia si candidi alle elezioni con la propria piattaforma e si faccia eleggere insomma risposta vagamente surreale io ve lo dico lo dico da un po di tempo forse da un po di mesi sacchi di sabbia alle finestre perché quello che sta per arrivare è uno tsunami e dunque davvero massima attenzione io ho provato ad annunciarlo da molto tempo ma qui siamo in preda a un paese impazzito mi sembra da molti punti di vista oggi la puntata la faremo su questo filo del surreale l'impazzimento di cui leggiamo appunto sui giornali di oggi leggiamo il vice premier che dice alla banca d'italia candidati alle elezioni cioè mi fai un'osservazione critica sulla manovra economica la mia risposta non è sì no valuto no la risposta è la banca d'italia si candidi alle elezioni roba insomma davvero surreale nel giorno in cui noi siamo stati talmente fenomenali penso al mondo del calcio mi viene in mente ne ho parlato in questi giorni da assegnare a giampiero ventura cioè quello che ci ha portato al disastro con la nazionale una squadra di calcio di serie a è stata la notizia di ieri che è stata assegnata a giampiero ventura la squadra del chievo che peraltro ha la stessa maglia i colori della maglia della svezia giallo e blu la svezia che ci ha eliminato dal mondiale siamo il paese davvero della dimensione surreale premiamo coloro che portano ai disastri come se i generali che hanno perso a caporetto fosse stata assegnata l'offensiva di vittorio veneto insomma è un po un po folle tutto questo io credo davvero che ci sia un problema di consapevolezza per inciso nel mondo del calcio ieri è stato fatto fuori il povero ballardini che ha fatto 12 punti in 7 partite col genoa ed è stato richiamato juric cioè il l'allenatore che stava mandando l'anno scorso il genoa in serie b cioè il genoa con una partita in meno a 12 punti se vincesse la partita di recupero ne avrebbe 15 starebbe in champions league è stata chiamata a è stato cacciato dal presidente preziosi e arriva il il tecnico che stava mandando l'altra volta in serie b il genoa davvero per me io rinuncio a comprendere quando vedo di maio che dice la banca d'italia candidati ventura sulla panchina della squadra che i colori della svezia e il povero ballardini cacciato con una squadretta come il genoa portata davvero nell'alta classifica e poiché ha perso una partita che ne è cacciato e richiamato l'allenatore che stava mandando con la squadra in serie b vuol dire davvero che qualcosa non funziona e allora per salvarci sapete cosa facciamo leggiamo il vangelo che ci dà almeno una parola di conforto vi chiedo come sempre il like alla diretta se volete se potete il like alla diretta la condivisione del link direttamente ai vostri contatti messenger e whatsapp per far sapere che la diretta in corso e e dunque riuscire a comunicare a quelli che non hanno ricevuto la notifica che siamo in diretta e poi la condivisione della diretta stessa sul vostro profilo se volete perché così riusciamo a farci vedere da più persone in questa situazione di impazzimento generale con lo spread che apre sopra quota 300 con il vice presidente del consiglio che dice alla banca d'italia candidati alle elezioni perché c'è un rilievo critico della banca d'italia alla sua manovra economica e tutte le cose vi ho detto più modeste ovviamente nel mondo calcistico davvero mi sembra di vivere in un paese impazzito e allora per salvarci dal paese impazzito il vangelo ci dà oggi una pagina di serenità perché sono i quattro primi versetti dell'undicesimo capitolo del vangelo di luca sono i versetti del padre nostro nella declinazione del vangelo di luca davvero c'è bisogno di pregare in questo momento per il nostro paese forse prima 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 che ogni cosa ci interessa in questo momento che il nostro paese lo diciamo sempre noi siamo come popolo la famiglia in campo non per cambiare il paese ma per salvarlo e oggi proviamo a parlarne in questi termini affidandoci alla preghiera che gesù ci insegna in questo vangelo il vangelo di oggi il vangelo del giorno ed è il primo la prima parte i primi quattro versetti del vangelo di luca un giorno gesù si trovava in un luogo a pregare quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse signore insegnaci a pregare come anche giovanni ha insegnato ai suoi discepoli ed egli disse loro quando pregate dite padre sia santificato il tuo nome venga il tuo regno dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci indurre in tentazione questa è la preghiera il padre nostro è la parola del signore di oggi è il vangelo di oggi è davvero mi viene da dire è l'incontro rasserenante di giornata che davvero di cui davvero abbiamo bisogno pregando questa preghiera la rivolgiamo per l'italia perché lo ripetiamo l'apertura della mattinata è su uno spread oltre quota 300 i mercati stanno per impazzire io ve lo annuncio tutto ciò che è stato detto dalla banca d'italia dalla ufficio studi della camera dagli osservatori internazionali dal fondo monetario internazionale della commissione europea tutti unanimemente concordi nel dire questa manovra è una manovra pericolosissima io l'ho spiegato ieri ho tentato di spiegarlo con i numeri alla mano guardate che mettere 9 milioni 9 miliardi di euro sul reddito di cittadinanza a due valenze la prima a scassare i conti la seconda basta fare un conto banale 9 miliardi poiché il reddito di cittadinanza viene annunciato in 780 euro al mese per 12 mesi e fa 9.360 euro annui se voi dividete 9 miliardi per 9.360 la platea che ha dunque accesso a questo reddito di cittadinanza è di meno di un milione di persone se lo aspettano in 6 milioni e mezzo qui si stanno per scassare i conti e creare anche una condizione di drammatica disillusione sociale che non voglio neanche pensare che tipo di conseguenze potrà avere che se mettiamo insieme che il reddito di cittadinanza lo riceveranno uno su sei di quelli che se lo aspettano e contemporaneamente avremo i conti scassati il rischio euro l'uscita dall'euro che significa non poter prendere i soldi al banco perché l'italia verrà messa in una condizione di quarantena allora io vi dico attenti grande preoccupazione questa pazzia la pagheremo cara personalmente lo dico con grande chiarezza io credo molto anche che conosco le competenze che ci sono in banca d'italia e nell'ufficio studi della camera che ho frequentato quando ero parlamentare se si dice attenzione questi conti non reggono è molto probabile che i conti non reggano e dunque lo sa probabilmente anche il ministro savona che ieri ha dichiarato a porta a porta ieri sera l'avete visto che se lo spread andrà su quota 400 la manovra dove essere rivista il vice ministro all'economia garavaglia ha detto lo trovate in prima pagina sul quotidiano la croce altrove un po nascosta questa dichiarazione ma il vice ministro caravaglia che è persona seria e sa far di conto ha detto da qui a natale la manovra cambierà molto allora speriamo e preghiamo come ci ha insegnato il vangelo di luca oggi affinché un po di sale in zucca da qui a natale arrivi ai nostri governanti e non si facciano disastri che possano avere delle conseguenze pesantissime lo ripeto sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico nel frattempo speriamo davvero di non dover vivere giornate con lo spread a 400 perché tutti hanno detto secondo me in maniera molto imprudente se lo spread arriva a 400 cambieremo la manovra con questo tipo di dichiarazione si rischia seriamente che sui mercati la fibrillazione diventi insostenibile anche se salvini proprio stamattina ha detto la manovra non cambia io tiro dritto però ripeto a me sembra di poter incastonare queste dichiarazioni dentro un clima di impazzimento generale ridendo parlavo delle questioni calcistiche siamo quelli che prendono il responsabile del maggiore disastro degli ultimi 60 anni di storia del pallone e gli affidiamo da vecchio perché pure vecchio una squadra di serie a coi colori della svezia cioè della nazionale che ci ha escluso dal mondiale il chievo o siamo quelli che prendono ballardini il tecnico che ha messo il genoa a 12 punti nella colonna destra chi parla chissà di calcio sa cosa significa della classifica anzi con una gara di recuperare da recuperare sarebbe addirittura in zona champions lo esoteriamo per chiamare il responsabile del disastro del genoa nella gestione precedente via ballardini dentro iuric iuric stava facendo retrocedere il genoa ma viene richiamato per sostituire ballardini che invece lo sta portando in zona champions c'è evidentemente un impazzimento questo impazzimento generale che viene fotografato bene dal vice premier ministro del lavoro che non ha mai lavorato luigi di maio che dice alla banca d'italia candidatevi alle elezioni se volete farci critiche sulla manovra economica mi viene da piangere quando leggo una dichiarazione del genere proprio perché conosco le competenze che esistono in banca d'italia ma questi riescono a fare cose del genere allora allargo le braccia e dico davvero preghiamo facciamo quello che viene detto dal vangelo ci resta solo questo insomma una grande e collettiva preghiera per salvare il paese all'impazzimento generale un paese che però è narcotizzato io ho guardato i dati d'ascolto delle ultime due serate televisive maniera pazzesca i programmi più visti da milioni di persone durante queste due serate televisive che sono serate in cui tutti dovremmo essere molto preoccupati per i destini del paese niente nessun programma di informazione vincono due programmi di canale 5 il primo si chiama grande fratello vip il secondo si chiama temptation island uno venonda il martedì sera l'altro venonda lunedì sera il grande fratello martedì temptation island e devo darvi il brogliaccio di questi di queste puntate perché insomma le sto seguendo per cercare di capire a che livello siamo impazziti il livello del grande fratello vip è che ormai l'omofobia è la parola malvagia per eccellenza ovviamente non si può essere in alcun modo anche solo dichiaratamente contro il matrimonio omosessuale per esempio assomente vietato l'omofilia è invece il tratto distintivo la puntata il grande fratello in prima serata ovviamente davanti a tutti i bambini ragazzi giovani adolescenti verteva nel suo momento clou nel passaggio di una noce di bocca in bocca da un maschio dichiaratamente omosessuale ad altri maschi molto belli a cui l'omosessuale si avvinghiava mentre passava questa noce di bocca in bocca creando l'effetto del bacio che insomma in tutta evidenza non paghi di questa meravigliosa immagine perché ripeto omofobia ovviamente parolaccia brutti cattivi gli omofobi l'omofilia è invece dominante al grande fratello a seguire diciamo dopo questa scena davvero per certi versi molto pesante da 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 vedere è il concorso di bellezza tra cinque bei ragazzi tra cui una medaglia d'oro olimpica voglio dire io una medaglia d'oro olimpica vabbè cinque bei ragazzi ci vedremo il fisico vedremo la bellezza dei loro occhi la bellezza dei loro tratti somatici no il concorso di bellezza era mostrare il culo letteralmente cioè il concorso di bellezza maschile era non la forza la possenza il medaglia d'oro olimpica e faceva vedere la sua capacità fisica la dimensione toracica i tratti somatici gli occhi la bocca no mostrare il culo questa era prima serata televisiva prima si passano la noce con l'omosessuale in tutto un clima evidentemente creato apposta per esaltare questo ruolo della personaggio omosessuale nella casa e poi la grande concorso di bellezza per maschi che devono mostrare il culo e vengono giudicati sulla dice carla camerani ma cosa c'è di bello nel culo di un uomo molto sinceramente brava carla purtroppo che vi devo dire questa è la follia ovviamente costruita da omofollia fatemi dire omofilia e omofollia questo impazzimento davvero incredibile invece la puntata di ieri quella di temptation island riguarda le coppie etero tre coppie etero una tra quali molto famosa quella di valerio mani valeria marini con il suo compagno valeria marini come sapete ha più di 50 anni ha un compagno della sua età bene le tre coppie di temptation island sono tre coppie etero saltano tutte per aria maniera violentissima si insultano in una maniera tre ore di insulti terribili da gente che stava insieme anche da anni valeria marini tradisce platealmente il fidanzato con un ragazzino di 25 anni platealmente sotto le occhi delle telecamere e poi va al colloquio finale clou con simona ventura che nel frattempo aveva anche ospitato il marito ex marito bettadini che stava e sta con una ragazzina di 20 anni e ultra 50 anni anche lui ebbene valeria marini dopo aver tradito platealmente il fidanzato giustamente risentito e la coppia scoppia davanti a questa evidenza si lamenta perché lei non è amata una scena surreale e tutto si chiude con simona ventura che fa il peana di valeria marini grande donna coraggiosa eccetera eccetera prendete questo racconto televisivo sarebbe inezia se fosse una cosa confinata non è una questione secondaria è purtroppo il programma televisivo più visto è lunedì sera il programma televisivo più visto del martedì sera questo è ovviamente come dice daniela scavoni è tutto fake seguono un copione per carità tutto vero ma se l'impazzimento ce lo mettono avanti così e ragazzi noi stiamo mandando il nostro cervello completamente in pappa facendo saltare i capisaldi ovviamente no coppia etero deve sfasciarsi per forza tutti tradiscono tanto inutile andare avanti il messaggio è chiaro quante belle allegra invece la sessualità omosessuale che bello baciarsi con ivan cattaneo davanti alle telecamere alle nove e mezza di sera che bello mettere il culo a pippa e farsi giudicare come bellezza maschile sul proprio culo follia pura follia pura ma se lo diciamo ragazzi noi diciamo queste cose se noi diciamo queste cose siamo matti e vediamo consigliati dei droga di medievali andatevi a nascondere voi bigotti non capite nulla ragazzi è tutto collegato abbiamo il ragazzo 33enne che fa il vicepremiere dice alla banca d'italia candida alle elezioni se vuoi criticare la mia manovra economica abbiamo gente che fa una manovra economica ci porterà al disastro in tutta evidenza ci abbiamo nel settore calcistico vi ho raccontato altro luogo dove evidentemente costruiamo dimensioni disastrose e poi tutta la sera quando alla fine dovremmo fare una riflessione su quello che sta accadendo ci mettono davanti ma è perfetto il titolo grande fratello è perfetto perché è la fotografia perfetta della società orwelliana in cui siamo precipitati io vi prego vi imploro prendete dalle vostre librerie dai vostri scaffali quel volume in tonso che non avete letto perché troppi di voi non l'hanno letto che si intitola 1984 un'opera di George Orwell scritta nel 1948 cioè 70 anni fa 70 anni fa e rileggete ciò che è scritto in quella in quel testo dove compare l'idea di grande fratello leggetelo poi magari ne riparliamo qui in una diretta televisiva sulla pdf tv certo un quadro desolante una pettinata della potetevi dare ma sì è chiaro io potrei pettinarmi ma davvero secondo voi non è più adeguato essere anime spettinate in questo contesto di folli potrei venire con la giacchetta la gravatta fare no predicozzo da telepredicatore americano io mi alzo e vengo qua studio leggo guardo ciò che è accaduto poi senza filtri in alcuna maniera vengo davanti a voi parliamo come se voi stesse qui a casa mia alzati a guardare insieme a me i dati sconcertanti che emergono dalla dalla quotidianità e ci facciamo una chiacchierata discutiamo andrea aquilino dice le tue analisi sono più che lucide condivisibili ora occorre trovare il modo di incidere maggiormente ragazzi incidere maggiormente cosa incide di più di una goccia che scava la pietra e noi ci diciamo che domani troviamo una soluzione la soluzione abbiamo indicato abbiamo una piattaforma valoriale abbiamo una piattaforma politica abbiamo una mobilitazione che riguarda centinaia di migliaia di persone la strada l'abbiamo intrapresa ovviamente non cambieremo da oggi a domani l'italia però quello che facciamo oggi oggi siamo alla diretta di stampa e vangelo in cui denunciamo cose che altri non denuncierebbero l'impazzimento generale il nostro lavoro è il lavoro della denuncia di ciò che vediamo e che di ciò che non che non è al diritto di cittadinanza le nostre parole se diciamo che è folle rappresentare con allegria con gioia con positività il rapporto omofiliaco mentre si descrive in maniera sempre becera col tono cupo il rapporto eterosessuale le due trasmissioni servono a raccontare questo viva gli omosessuali gli omofiliaci come sono allegri e divertenti abbasso la coppia dell'eterosessuale che è destinata al tradimento al marcio al cattivo all'insulto questo tipo di fotografia viene proposta incessantemente ogni sera a milioni di persone che ovviamente succhiano questo tipo di messaggio senza neanche accorgersene il lavoro di denuncia non si può fare di tutto questo non c'è un giornale un telegiornale una trasmissione televisiva che è disposta anche solo ad ascoltare una campana del genere il nostro lavoro è fare la goccia e scavare la pietra la goccia anche oggi anche mercoledì 10 di ottobre che va su questa pietra e prova a scavare a scavare gabrile marconi che ci ricorda che ieri i pro life all'università della sabienza sono stati cacciati e malmenati tanto per ricordare come funziona la vita dei pro life in italia nel ventunesimo secolo non puoi testimoniare una tua idea che dall'università della sabienza arrivano i fascisti rossi e ti cacciano a pedate ricordiamoci questo tipo di follia è una follia che riguarda il nostro tempo ci riguarda e noi dobbiamo essere in grado di rispondere con una nostra mobilitazione che è ovviamente una mobilitazione che si fa controcorrente controvento dicendo cose che altri non dicono e diffondendo ciò che noi diciamo quindi vi chiedo mi piace come sempre alla diretta per favore cercate di fare il condividi sulla vostra pagina mandate il link della diretta stessa a i vostri amici su whatsapp e su messenger e questo è il nostro modo di fare resistenza coinvolgere un po di migliaia di persone a proposito grazie stiamo battendo record su record della trasmissione stampa evangelo a ormai 7 mila persone affezionate di media sulle puntate quindi sono numeri molto molto significativi se ogni puntata in 24 ore raggiunge 7 mila persone noi abbiamo riempito un palazzetto dello sport in ogni puntata vuol dire che c'è evidentemente qualcuno che ai nostri messaggi non è indifferente dobbiamo cercare di farli arrivare a più persone possibile attraverso la pdf tv e tutta la programmazione ieri c'era mauro chialastri l'altro ieri c'era a dalino lonardi col suo dentro i fatti arrivano le nostre puntate penso le puntate di alessandra mondelli davvero tante paolo buonaiuto abbiamo prodotto molto materiale ne produciamo ogni giorno per costruire le condizioni di una resistenza portando le notizie che altri non vi danno da un punto di vista che altri non vi danno parliamo di asia bibbi parliamo appunto in questi termini della costruzione dei palinsessi televisivi parliamo della manovra economica parliamo di droga parliamo di vite uccise come quella di alice 16 anni morta nei bagni della stazione di udine per l'ennesimo caso di overdose da eroina gialla con la mafia nigeriana che la spaccia ha già fatto 20 morti del nord est parliamo di centinaia di morti per overdose nel 2018 ma parliamo di tutte le notizie proviamo a comunicare fatti che rappresentano e raccontano un impazzimento su cui la nostra risposta è una risposta di valore profondo eh che non a caso qualifica questa rubrica come l'incontro tra la stampa e il vangelo cioè quello che avviene ogni giorno e la un messaggio salvifico come quello evangelico l'impazzimento della quotidianità e la possibilità di salvezza questo è alla fine il succo delle puntate che facciamo ogni giorno e che vi vi chiedo di far arrivare a più persone possibili per far sentire una voce che altrove altrimenti non sentirete con questa tonalità poi certo ogni tanto troviamo anche noi il nostro spazietto a canale 5 ci fa l'intervista radio 24 ovviamente ci trattano da matti però riusciamo a far depositare ogni giorno in qualche modo una goccia io credo di sanità mentale in una marea di pazzia che ci circonda è il nostro lavoro è il lavoro anche culturale che svolge il popolo della famiglia vi ricordo fra sette giorni ci incontriamo tutti in piazza san pietro dal papa per l'udienza del 17 di ottobre a seguire l'assemblea nazionale dalle 14 e 30 al palassetto delle carte geografiche dove nomineremo tra l'altro i nostri coordinatori un coordinamento nazionale di 220 persone che prenderanno le redini del movimento sul territorio da non mancare dunque l'appuntamento so che in un giorno feriale di mercoledì quindi sarà inevitabilmente più complessa la partecipazione ma è importante sia per la fase dell'udienza del papa sia per la fase politica successiva che la mobilitazione per il 17 sia massima e dunque chiedo a tutti di partecipare agli eventi connessi a questa vicenda stasera parte anche il programma di rossano giorello che si chiama pd fiamoci pd fiamoci alle ore 19 e 30 mentre le 20 e 30 c'è rosa grazie a pellegrino ricordo altre due trasmissioni della pdf tv ci venivano ricordate da manola con giluppi la uteri dal coordinamento editoriale simone sanna ci vediamo mercoledì 17 a piazza san pietro ecco rosa grazia pellegrino che arriva in connessione in questo momento alle 22 30 sarà in diretta anche lei su pdf tv come ci ha informato e l'emanuela con giluppi e l'auteri gabriella violi dice se l'audience è l'unità di misura valoriale l'audience però ci deve sempre allertare noi facciamo 7 mila persone con la puntata di stampa evangelo loro hanno fatto 3 milioni 4 milioni non banalizziamo quando ci sono 4 milioni di persone che guardano quella roba poi la testa si muove purtroppo di conseguenza noi dobbiamo cercare di essere inoculando 7 mila diciamo così fiale di siero della verità diciamo così inoculare la verità in un contesto sociale dove però 4 milioni di persone guardano quei quei programmi luca scotti dice preghiamo di più e il vangelo di oggi ci insegna a pregare e quindi sicuramente l'illuminazione che ci arriva dal rapporto quotidiano col vangelo è quella che ci aiuta a comprendere ciò che dobbiamo dire e fare in questa fase così complessa della nostra storia fatemi salutare anche alessandra trigila editorialista del quotidiano la croce ormai sui premi della scuola aspettiamo altri due contributi per il nostro quotidiano firmato in prima pagina alessandra c'è maria cristina de pascale c'è sabrina bosu stefano sigali andrea aquilino salito saluto tutti coloro che sono in diretta coloro stanno facendo il like la diretta di oggi vi chiedo soprattutto la condivisione sul vostro profilo e l'indicazione del link ai vostri amici su facebook su messenger su whatsapp è arrivato anche stefano fusi ringrazio stefano per la presenza alla diretta di oggi di stampa evangelo noi continuiamo a costruire dunque un percorso di consapevolezza ogni giorno se leggete le puntate ne abbiamo fatte ormai una decina di stampa evangelo dalla ripresa della stagione autunnale vedrete la connessione unite i puntini e capite che c'è un tentativo di rispondere su un piano razionale a un impazzimento della società questo è ciò che noi dobbiamo come popolo la famiglia fare per renderci anche in qualche modo utili a un ragionamento diverso dando voce a chi non ne ha e dunque a coloro che sono in questo momento di impazzimento dalla parte della verità saluto carla lodi saluto stefano pallini arrivata anche rossano giorello di cui ricordiamo oggi l'esordio alle 19 30 sulle frequenze della pdf tv c'è cristiana di stefano a cui va un grande abbraccio ho visto anche fiorenza pasini saluto tanti e tutti voi per questa puntata di stampa evangelo che va verso la conclusione io vi ricordo a tutti l'appuntamento del 17 ottobre con l'assemblea nazionale del popolo della famiglia intanto confermo che lo spread è nettamente sopra quota 300 questa mattina saluto andrea dolcini un abbraccio a tutti voi noi seguiremo ovviamente l'andamento della giornata con attenzione vi ringrazio per l'attenzione un abbraccio anche angelo cicirelli a matteo marzariol da bravo professore distributista ci spiega sempre quello che dovremmo pensare ascolta anche caro matteo che ti sarà utile ogni tanto saluto in particolare il coordinamento editoriale di pongiluppi leuteri e di francesca centofanti saluto silvia lodà che è arrivata anche oggi in diretta saluto mirco fanizzi che lavora molto alacremente sulla puglia flaviano fortunato vi ringrazio davvero per il lavoro che state svolgendo ognuno sul piano territoriale per far radicare il popolo la famiglia è arrivato anche don ottolino baronio che abbracciamo tutti i giorni grazie don ottolino scrive l'impazzimento dei modelli e cita anche chiara ferragni che vende bottiglie di acqua 8 euro attenzione lì il problema don ottolino non è chiara ferragni che vende le bottiglie a 8 euro è che le bottiglie a 8 euro sono andate esaurite quindi il problema dell'impazzimento oggi è negli acquirenti è molto più diffuso fosse impazzita solo va chiara ferragni sarebbe un problema minimo qui è impazzita una pletora di persone va a comprare quella acqua a 8 euro grazie sempre a don ottolino baronio però per la presenza e l'affetto che dimostra a sostegno del popolo della famiglia saluto domenico gallo saluto maurizio scudiere saluto fabrizio delle piane e l'abbraccio va a tutti voi ricordandoci che poi i matti siamo forse anche noi è problema è provare a mantenere quel minimo di lucidità e ci permette ancora di leggere una pagina del vangelo pregare chiedere di essere aiutati dunque in questo percorso e poi fare la battaglia necessaria per cambiare e per salvare questo paese saluto anche daniela scavolini saluto alessandro persigilli che si è appena collegato saluto fabrizio delle piane da maria di noffi una buona giornata a tutti voi mi piace la diretta mi raccomando condivisione sul vostro profilo il link fatelo girare a tutti i nostri amici almeno qualcuno rifletterà la corazzata dei quattro milioni che hanno visto temptation high dal grande fratello dovrà scontrarsi con i 7 mila che hanno seguito stampa in vangelo ciao a federica lupi sempre grazie ciao a roberto priori a rita mesiti e a tutti voi che avete seguito la diretta di oggi da maria di noffi una buona giornata a tutti voi